L'Immacolata a Torre del Greco, questa devozione per la Madonna si è sempre festeggiata. Anche nel Regno Borbonico era festa nazionale. E Torre di San ha avuto sempre una grande devozione. Anche perché, essendo un popolo di marittimi, di naviganti, gli uomini stavano molto lontano da casa. E l'unica cosa che potevano fare le mogli, le madri, i figli, i fidanzati, era di pregare. La Madonna mi ha la grazia, fa la torna a casa. Da quanti anni si fa il carro votivo? Il carro votivo è nato dopo l'eruzione dell'8 dicembre 1861, quando nove bocche eruttive dal lato di Monte Toro, dove adesso c'è l'ospedale, eruttarono lava e si stava avvicinando verso la città di Torre del Greco. Molti di Torre del Sur ricordavano già l'eruzione del 1794. Torre era stata rifatta da più di 60 anni, 70 anni, e avevano paura che si distruggeva di nuovo. E promisero che se la città si salvava, avrebbero fatto un carro votivo, lo avrebbero portato per l'estate di Torre. E nello stesso momento, quel giorno, presero la statua della Madonna e la portarono sul fronte lavico, più o meno dove è stata adesso l'autostrada. La cosa strana però è che non fu portata la statua di San Gennaro, ma la statua della Madonna. Ecco perché a Torre del Greco la Madonna è stata una devorsione particolare per l'Immacolata Concezione. E a Montedoro, poi, l'oruzione di Montedoro è nata proprio quella zona conosciuta come le montagne e le rosce. La città fu danneggiata. Le strade furono quasi danneggiate. Il suolo si sollevò. E la prima cosa che fece i torresi è aprire una nuova strada. La via Circunvallazione, conosciuta via Nova. E noi dopo più di 160 anni, diciamo ancora a via Nova. L'anno dopo, sciorsero il voto. Fecero un carro votivo e lo portarono per le strade di Torre. Mentre un carro votivo semplice, non trionfale. Il carro trionfale arriverà molti anni dopo. La devozione mariana a Torre del Greco è testimoniata già da diversi secoli. Da prima dell'eruzione del Vesuvio del 1861. Tant'è che in questa città abbiamo numerose chiese dedicate alla Madonna. Facendo alcune ricerche, io ne ho contate 16. Abbiamo, in particolare nel centro storico, la chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, alla Santissima Assunta, alla Madonna di Costantinopoli, la chiesa del Rosario, del Carmine. Ma è chiaro che tutta la devozione torrese è ancora più viva e fervida ai piedi dell'Immacolata Concezione. Inoltre, oltre alle chiese dedicate alla Madonna, abbiamo varie icone votive mariane. Ad esempio, in via di Gocola Marino abbiamo un'icona votiva dedicata alla Madonna del Carmine. E qui, nel libro che ho scritto e pubblicato qualche mese fa, ho anche messo questa immagine.